Consigliere Romito, si dice no al referendum, lo si fa in una maniera assolutamente originale? Noi lo diciamo e lo diciamo in maniera convinta. Nei prossimi giorni distribuiremo a tutti i cittadini baresi questo volantino che abbiamo predisposto, dove sul retro sono stampati i dieci motivi che noi riteniamo necessari per cui si debba votare no. Ma al netto dei dieci motivi che tutti i cittadini leggeranno, invito tutti i cittadini a leggere. La domanda che voglio rivolgere io è questa, ma davvero vogliamo lasciare cambiare la nostra Costituzione a Dennis Verdini, Giorgio Napolitano e per Ferdinando Casini? La mia risposta evidentemente è no. Renzi come Benigni? Il referendum del 4 dicembre, diciamo no a una riforma comica e qui ci sono le due facce della stessa medaglia. Un comico Benigni che chiede agli italiani di votare sì chissà per quale motivo. La battaglia si fa serrata. Sì, abbiamo cominciato con questo manifesto, la fissione stradale per comunicare la nostra contrarietà a questa riforma costituzionale. Proseguiremo con una serie di volantini che distribuiamo in città e ancora poi faremo degli incontri pubblici per spiegare con alcuni professori universitari nel dettaglio quali sono le principali novità che si vogliono introdurre e finiremo con una grande manifestazione in strada sotto il 4 dicembre con la quale vogliamo chiudere questa campagna che ci vede impegnati per avversare una riforma che in nessun modo condividiamo.